Ieri il leitmotiv era un'ora sola ti vorrei, quest'ora si è consumata e però si è consumata anche una spaccatura all'interno del sindacato. Sì, diciamo questo dialogo che ci dovrebbe essere tra il mondo sindacale, i sindacati e la politica, o il governo per essere specifici, è un po' difficile, perché il tema è anche abbastanza difficile da trattare. Il lavoro è un tema che ci riguarda tutti, anche chi non ce l'ha, soprattutto chi non ce l'ha, perché chi è disoccupato ovviamente si aspetta qualcosa in più anche da parte sia della politica, anche dal mondo dei sindacati, più sostegno e dunque questa discussione è qualcosa che riguarda tutti e tutti vogliono capire se ci sia qualcosa di positivo. Si ha l'impressione che si stia anche un pochino impelagando all'interno delle schermaglie, all'interno dello stesso partito di maggioranza e anche, possiamo dire, all'interno del sindacato stesso. Quanto prevale la voglia strategica nei confronti poi invece dell'interesse del Paese? Questo è forse un classico quando si tratta di trovare degli accordi. Forse anche per quanto riguarda la politica e soprattutto la sinistra è molto interessante, perché il lavoro storicamente fa parte del mondo della sinistra, però la sinistra di oggi, quella in Italia, ma non solo, anche in Europa in generale, il tema lavoro lo tratti in un modo sicuramente diverso da come lo trattava la sinistra di un'altra epoca. E questo diciamo che sicuramente è un fatto anche un po' storico, sarà molto interessante anche capire come si evolverà anche questo elemento.